adesso prendila quella lì per piacere e la butti quando passa la macchina vieni qua con me la butti in mezzo alla macchina per piacere ecco amico García, per favore, mira, mira, mira il lavoro grazie a voi no, qui, 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 qui grazie, qui García, mira per favore l'equipo innovativo 2,55 m di lavoro terreno pulverizzato interrador di piedra grazie molto mi piace molto e un grande abrazo, te saluto